da 0 a 10 la rubrica di social football su quanto ci ha regalato il calcio europeo questa settimana 0 al Marsiglia che perde contro il Bordeaux e scivola in quarta posizione il sogno di Guam è sfumato definitivamente 1 al Manchester City che perde 4-2 il derby con lo United periodo nero, 3 sconfitte nelle ultime 5 gare 2 al Via Real, il sottomarino giallo non vince dall'8 marzo e può lottare solamente per mantenere la sesta posizione 3 al Borussia Dortmund, campionato da dimenticare, sconfitta per 3-1 contro il Mönchengladbach tredicesima sconfitta stagionale 4 all'Amburgo, ultima in classifica a meno 4 dalla salvezza rischia la retrocessione per la prima volta nella sua storia 5 al Barcellona, contro il Siviglia è lecito il pareggio ma non se riporti sul doppio vantaggio il Real è a meno 2 e alla prossima c'è il Valencia 6 al Chelsea, dopo l'eliminazione contro il PSG la squadra schiaccia sassi è sparita 7 al gol di Negredo, contro il Levante il Valencia vince 3-0 e il terzo posto sta a meno 1 8 al PSV, più 10 dalla seconda, la matematica li premierà nella prossima giornata tornano campioni d'Olanda dopo 7 anni 9 al Paris Saint Germain, 4-0 al Bastia nella finale della Coppa di Lega 2 gol di Hidra e 2 Cavani per prepararsi al meglio al Barcellona 10 al Manchester United e all'Arsenal, le due squadre più in forma d'Inghilterra 7 vittorie consecutive per i Red Devils, ben 9 per i Gunners